Ciao da Avsim! Incredibile come Bonucci e Chiellini, ma soprattutto Chiellini, abbiano attaccato da difensori Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo si sia difeso da queste parole, con la sua intervista, le sue dichiarazioni a Sky Sports UK da giocatore del Manchester United, che non sono state delle risposte dirette, secche, esplicite, verso Chiellini o verso Bonucci, ma sono state giustamente interpretate come tali. E quindi se Bonucci ha detto, tra l'altro una cosa secondo me ben poco aggressiva e ben poco provocatoria o offensiva nei confronti di Cristiano Ronaldo, e cioè con Cristiano Ronaldo abbiamo giocato per lui, adesso che lui se n'è andato dobbiamo tornare a giocare da squadra, che è una cosa banale, condivisibile al 100%, quindi non c'è veramente un attacco nei confronti di Cristiano Ronaldo. Chiellini invece ha detto sarebbe stato meglio se se ne fosse andato all'inizio di agosto e non a fine agosto e addirittura gli ha dato pure la responsabilità, anche se in diretta e non voluta, sull'inizio di campionato negativo della Juventus. Anche se ricordiamo a Chiellini che Ronaldo c'era a Udine quando si è pareggiato 2-2 e non era neanche in campo quando abbiamo preso i due gol, Ronaldo ha risposto, ecco cosa ha risposto Cristiano Ronaldo a queste critiche, ma forse anzi sicuramente anche ad altre, dicendo quelli che mi criticano e mi attaccano in questo modo semplicemente non gli piaccio e quindi io a 36 anni che ho vinto tutto non posso preoccuparmi di queste cose, non me ne interessa. Ecco, primo passaggio su questo, non è vero, non è esattamente così, non dovrebbe essere così, è vero che Cristiano Ronaldo a 36 anni ha vinto tutto, ma proprio perché ha vinto tutto e per quello che ha dovuto fare per vincere tutto dovrebbe essere un pochino più aperto anche alle critiche, cioè questo atteggiamento supponente, presuntuoso, che per carità è Cristiano Ronaldo e se lo può permettere, se lo può permettere 100 volte, non gli fa fare tanta strada. Poi veniamo anche alle critiche che gli muovono in Inghilterra sul suo modo di giocare e che forse danno un pochino ragione, non tanto a Chiellini su questo, ma a Bonucci, perché Bonucci ha fatto, ripeto, un ragionamento condivisibilissimo e secondo me non c'è neanche una stizza di Ronaldo nei suoi confronti, al massimo c'è nei confronti di Chiellini. E ha proseguito dicendo, in particolare io devo aiutare la squadra, quindi fa parte del mio ruolo anche fare la fase difensiva, ma soprattutto io devo attaccare, devo fare gol, perché mi viene chiesto soprattutto di fare gol, devo far vincere la squadra. E quindi io sono già stato, sono sempre stato un uomo squadra, chi nega questa cosa evidentemente è perché ce l'ha con me, perché non mi sopporto e perché non gli piaccio. Dormo bene e ho la coscienza a posto e zittirò tutti vincendo le partite, vincendo i trofei e facendo vincere il Manchester United, parlano perché mi temono, perché sono arrivato a questi livelli. Ora, dobbiamo contestualizzare anche la risposta di Ronaldo, perché come dicevo è sicuramente una risposta a Chiellini, molto meno o per nulla a Bonucci, ma è anche ad altri. Ed è proprio al contesto inglese, perché lo United ha perso 4-2 con l'Eister e sono piovute critiche ovviamente pesanti anche su Cristiano Ronaldo. Poi ha vinto contro l'Atalanta 3-2 di rimonta nel secondo tempo e ne parliamo. E quindi Ronaldo evidentemente con queste parole vuole dire, guardate che non è vero quello che state dicendo, vuole un po' togliersi di dosso questa responsabilità e questi attacchi. Cioè se il Manchester United prende gol e va in difficoltà non è colpa mia o non è solo colpa mia, perché io il mio lavoro, anche difensivo, lo faccio, l'ho fatto, l'ho sempre fatto e lo sto facendo come uomo squadra. E quindi dovete guardare da un'altra parte e sostanzialmente è una risposta a questo, è una reazione a queste critiche in particolare, però ovviamente nel canale delle critiche che sono arrivate anche da Chiellini. E devono ancora arrivare perché quello era solo l'estratto, le parole di Chiellini a Dazon, erano solo il teaser di un'intervista più lunga che uscirà il 27 di ottobre. Quindi dobbiamo anche aspettare i prossimi giorni per vedere cos'altro verrà fuori ed eventualmente, a proposito, iscrivetevi, attivate le notifiche, farò anche un'altra puntata su questo così non ve la perdete. Se attivate le notifiche vi iscrivete al canale. E quindi dobbiamo anche capire qual è la situazione di Cristiano Ronaldo e poi veniamo in definitiva alle parole di Chiellini, a quello che resta delle sue parole. Perché la situazione di Cristiano Ronaldo, come dicevo, è quella di un giocatore in questo momento sotto pressione, come quella che lui non fa in campo. Ed infatti, ho letto anche un articolo, ma ce ne sono tanti, di critiche, di analisi critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo, molto equilibrate, in cui si dice che Ronaldo ha portato un milione di benefici al Manchester United, però con lui la squadra fa meno pressing. Perché lui fa meno pressing, ne faceva pochissimo già alla Juve, continua a farne poco eppure meno al Manchester United e ne fa la metà di Cavani. E il principio, giustissimo a livello tattico, è che se l'attaccante non fa pressing, tutta la squadra non riesce a fare pressing. Perché se c'è un uomo davanti che non fa pressing e gli altri scalano, si crea un'inferiorità numerica dietro, si creano degli scompensi. Questo è un ragionamento chiaro, nitido, che mi piace, tra l'altro, sottolineare il fatto che in Inghilterra queste cose sui giornali le scrivono. Cioè, andate su un qualunque sito di informazione sul calcio sportivo e trovate queste cose. Cioè, trovate i video di Absin, praticamente. Trovate me in versione inglese che scrivo articoli, che invece qui c'è un deserto, un deserto totale, a livello giornalistico e non solo, in cui, ma senza voler svidire nessuno, è una mia opinione anche da utente. Cioè, per trovare un discorso, ecco, sensato, fondato, documentato, con dei numeri, con delle statistiche, con un ragionamento tattico, bisogna andare in Inghilterra. Forse pure prima, magari già in Germania si trova qualcosa, pure in Francia. Ma, voglio dire, in un contesto di alto livello, e parlando specificamente di Juve e di Cristiano Ronaldo, cioè, hanno analizzato meglio e più approfonditamente la Juve in Inghilterra per parlare male di Cristiano Ronaldo, che non in Italia in un anno, due anni. Di cosa stiamo parlando? E si cita questo. Ronaldo faceva già meno pressing, adesso ne fa ancora meno, ne fa comunque troppo poco, e questo crea dei problemi difensivi. Quindi le critiche a Cristiano Ronaldo, come dicevo, in Inghilterra sono state mosse. Ci sono, soprattutto nel caso della sconfitta. Ovviamente lui vuole star lì a, diciamo, presentare la sua figura come una figura importante e positiva, quindi a scrollarsi, come dicevo di dosso, le critiche, e ad evitare di essere ritenuto responsabile quando le cose vanno male. Va detto, infatti, che un'altra cosa che è venuta fuori in questi giorni in Inghilterra, l'ho letta sul Sun, è un retroscena di spogliatoio, una ricostruzione di spogliatoio, da fonti dirette del Manchester United, che quindi, evidentemente, è stata fatta passare, anche per volere, di Cristiano Ronaldo, secondo cui, nell'intervallo di United-Atalanta, con l'Atalanta avanti 2-0, Ronaldo si è fatto prendere per pazzo nello spogliatoio, cioè avrebbe fatto veramente una lavata di testa generale a tutti i compagni, in maniera molto aggressiva, dicendo, qui, se non si vince, usciamo dal girone. Ed è arrivata la pronta reazione con i tre gol, tra cui il suo, per vincere contro l'Atalanta. E questo dimostrerebbe ancora di più che Ronaldo è un uomo squadra, perché quando le cose si mettono male, lui c'è, si fa sentire e lavora per la squadra. Questo dà una lettura. Dà un'altra lettura, semplicemente, Ronaldo non ama perdere per se stesso, se ne interessa un po' poco dei compagni e della squadra in generale, e lì ha fatto quella lavata di testa per dire, fatemi vincere, perché io voglio andare agli ottavi. Poi, che ci vada anche il Manchester United è solo una cosa intermedia. E qui dovremmo anche tornare ad analizzare, in maniera retrospettiva, Cristiano Ronaldo alla Juventus, perché queste cose non fa pressing, non si adopera in fase difensiva, la squadra deve giocare per lui, mette i suoi record e la sua figura al primo posto. Le abbiamo viste nei tre anni, soprattutto nell'ultimo anno. E quindi, un po' è vero che Cristiano Ronaldo non è veramente uomo squadra, perché se fosse stato uomo squadra, se ne sarebbe andato prima, come giustamente ha detto Chiellini dalla Juventus. A Bologna, nell'ultima partita, non si sarebbe seduto in panchina disinteressandosi totalmente dell'esito della squadra e della partita, perché tanto a lui non interessava e lui aveva fatto quello che doveva fare. E quindi ci sono delle critiche che sono fondate nei confronti di Cristiano Ronaldo e c'è stata una situazione difficile alla Juve, che però è stata non colpa di Cristiano, perché lui ha i suoi limiti, ma tutti hanno dei limiti, solo che un conto è avere dei limiti, anche gravi, anche insopportabili, facendo 30-40 gol a stagione, un conto è avere dei limiti della stessa importanza facendo un gol in due anni. E ogni riferimento a Bernardeschi è puramente voluto, per dire... Cioè, c'è una differenza, ma non è per dire Cristiano Ronaldo è più forte di Bernardeschi che, voglio dire, non c'era neanche bisogno che apriste il video, ma non c'era bisogno neanche che ci pensassi, cioè è ovvio. Il problema è che certi limiti te li tieni se poi ti dà dei benefici enormi e quindi devi essere tu a compensare questa cosa. E la Juve non l'ha fatto, la Juve non ha costruito la squadra su Cristiano Ronaldo, per Cristiano Ronaldo, non ha alzato il livello di Cristiano Ronaldo, non si è posta al livello di Cristiano Ronaldo, non lo ha accompagnato come crescita tecnica e quindi l'abbiamo sprecato. L'abbiamo sprecato e quello che ci è rimasto, oltre ai golli e alle vittorie, è stato proprio il peso di questi limiti. L'abbiamo sofferto Cristiano Ronaldo, come Bonucci ha fatto capire, ma ripeto in maniera non aggressiva, non offensiva, dicendo semplicemente abbiamo giocato per lui, ma non abbastanza, e adesso dobbiamo tornare a fare gruppo e può essere un vantaggio. Ma è semplicemente un discorso pragmatico quello di Bonucci. Il discorso non pragmatico è quello di Chiellini, perché Chiellini ha fatto la classica dichiarazione da Chiellini, e qui mi permetto di criticarlo anche aspramente, perché anche basta, cioè non se ne può più di questo Chiellini, che non saluta Sarri quando viene esonerato essendo responsabile, tra i responsabili dell'esonero di Sarri, che non dice le cose in faccia, scrive i libri contro Felipe Melo, la ricordate la storia? Ha scritto il libro Chiellini, in cui ha dichiarato cose contro Felipe Melo, Felipe Melo se le è prese dicendo che non le aveva mai sentite queste cose, anche il discorso su Balotelli, tante cose che lui scrive e dice postume, alle spalle, senza averle dette in faccia, a sentire quello che leggiamo. Perché anche Ronaldo, se ce l'aveva con Chiellini, ce l'aveva con Chiellini per questo, perché hanno fatto squadra, sono stati gruppo, Chiellini è stato il capitale di Cristiano Ronaldo, anche se veniva da quel zitto in Juventus-Real Madrid, Real Madrid-Juventus, quel gesto che adesso è una fotografia importante, ben conosciuta, con l'arbitro sullo sfondo, con Chiellini che fa gesto a Ronaldo di star zitto, perché parla troppo, poi nella Juve sono diventati tra virgolette amici, con quell'accoglienza, ricordate, a luglio 2018, di Ronaldo alla Continassa per la prima volta, con Chiellini che gli offre il caffè, che prendono il caffè insieme, però evidentemente era una cosa posticcia. Chiellini non considerava così importante e così positivo l'apporto di Cristiano Ronaldo, ma invece di dirglielo in faccia, o di dirglielo in maniera definitiva, ha aspettato che se ne andasse per parlare. Deduciamo questo, noi non possiamo sapere, ovviamente, non posso sapere, nessuno sa che cosa Chiellini ha detto a Cristiano Ronaldo e se è stato schietto e esplicito su questo, ma vista la reazione di Ronaldo, che riguarda tante altre cose, ma riguarda, a mio avviso, anche Chiellini, possiamo immaginare che Chiellini non sia stato così sincero, non sia stato così schietto. E' una cosa che abbiamo già visto. Allora, io da questi senatori, se senatori sono, se esperti sono, se navigati sono, se devono essere la guida della Juventus, mi aspetto che facciano la guida, ma nei fatti, con meno chiacchiere. Quando è il momento? C'è un problema con Cristiano Ronaldo? Se ne parla, lo affronti. Ma faccia a faccia, non nelle segrete stanze, alle spalle, oppure in maniera postuma, dopo che se ne è andato. Perché la stessa cosa è stata fatta con Sarri. Sarri è stato esautorato alle spalle. I giocatori non lo seguivano e lui ha dovuto prendere un'altra strada perché sennò non si sapeva come sarebbe andata. Ma Chiellini difficilmente è andato a parlare con Sarri per dirgli mister questo non va bene. Si è parlato con Agnelli, si è parlato con Paratici, si è parlato con Nedve, cioè si salgono le scale, si va nell'ufficio superiore e si va a parlare col superiore. Come se si avessero delle prerogative. Chiellini sarà anche capitano, futuro dirigente della Juventus, amato da tutti, uomo squadra, uomo simbolo, ma in questo momento è un giocatore. E i giocatori sono sempre l'ultima ruota del carro di qualunque squadra. Anche i magazzinieri vengono prima. L'ho detto in altre occasioni perché se il magazziniere non ti prepara le scarpe e la maglia, tu in campo non ci vai. Se l'autista non ti porta il pullman fino allo stadio, tu in campo non ci vai. Se non ti portano le borracce, capite cosa voglio dire? E quindi sono a maggior ragione sotto l'allenatore. Invece, lasciando stare Cristiano Ronaldo, che è uno che, figuriamoci, è una figura enormemente ingombrante, è proprio l'elefante nel negozio di cristalli, o l'elefante nella stanza, come preferite dire, anche altri giocatori che lo meritano molto meno, come Chiellini rispetto alla grandezza di Cristiano Ronaldo, si permettono il lusso di fare il bello e il cattivo tempo, invece di dire pane al pane, vino al vino. Quindi il problema delle dichiarazioni di Chiellini, principalmente, secondo me, è questo, di averle fatte postume e magari anche alle spalle, e chissà quante altre cose continuerà a dire Chiellini, facendoci fare anche una figuraccia. Perché di questo dobbiamo parlare. Mentre Bonucci, a mio avviso, è stato assolutamente puntuale, lineare, e ha detto una cosa che non c'è da offendersi in nessun modo, perché è pura e semplice verità. Fermo restando che anche Ronaldo ha commesso i suoi errori e dovrebbe fare mea culpa come non sta facendo il Manchester United, nonostante le critiche fondate che gli arrivano, perché anche lui ha avuto i suoi limiti e ha creato i suoi problemi, però questa è un'altra storia di cui abbiamo parlato a tempo debito e in faccia, non alle spalle, almeno nel mio caso, perché ho sempre criticato serenamente Cristiano Ronaldo, a differenza di quello che ha fatto Chiellini. Grazie per la vostra attenzione, non è un video contro Chiellini, è un'analisi ampia, accettate anche il punto di vista che ci possa essere una critica nei confronti di Chiellini per quello che lui ha detto, perché certamente non sono dichiarazioni serene, ma ditemi la vostra nei commenti, appunto, serenamente e liberamente. Like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non pendere i prossimi video, anche magari su altre puntate di questo stesso argomento, e abbonatevi per continuare a parlare con me di questi ed altri argomenti nelle chat riservate sul mio server Discord, link in descrizione. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!